Questo programma è offerto da Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il Ruggito Nero Verde la trasmissione che vi porta alla scoperta del mondo bitonto Tanti temi di cui parleremo oggi si riparte dalla sconfitta rimediata dal bitonto calcio in casa della Gelbison ci arriveremo in compagnia dei miei compagni di viaggio che vi presenterò a breve intanto però come al solito permettetemi di ringraziare Danilo Mingirulli per il supporto alla parte tecnica e WeWork che ci ospita all'interno dei suoi locali e dunque vado a presentare quelli che saranno i miei compagni di viaggio in questa nuova puntata del Ruggito Nero Verde partirei subito da Federico Fioretti difensore del bitonto Ciao Federico Buonasera a tutti è un piacere per me essere qui stasera e raccontarvi un po' la nostra situazione all'interno del rettangolo di gioco Ed è un abitué del Ruggito Nero Verde Mario Sicolo direttore del da Bitonto in collegamento con noi Ciao Mario Un caro saluto a tutti quanti voi amici in studio e a tutti i fedelissimi che ci seguono da ogni angolo del norbe terraco e multimediale non solo Nero Verde ovviamente Bene dunque entriamo subito nel vivo della puntata andando a vedere la partita che il Bitonto ha perso contro la Gelbison seconda sconfitta in due gare per il tandem Santo Ruvo Modesto e una classifica che comincia a farsi davvero preoccupante di servizio Ci pensa il capitano Antonio Croce al decimo della ripresa a regalare tre punti importanti alla Gelbison che valgono il terzo posto in classifica in coabitazione con il Nardò la squadra di Monticciolo batte di misura il Bitonto e mette insieme il terzo risultato utile di fila il primo tempo stenta decollare bisogna attendere il trentaseiesimo per il colpo di testa di Croce tuttavia impreciso risponde il Bitonto minuto dopo con Tedesco che salta il portiere poi col mancino sfiora il palo ancora Tedesco a trovare spazio ma la sua conclusione del limite è da rivedere primo tempo che termina a reti inviolate inizia una ripresa ben più emozionante partono meglio i neroverdi tangorre di testa svetta ma non riesce a inquadrare la porta poco dopo Figliolia viene fermato da Milan in aria Anaclerio infine svirgola la conclusione al quinto risponde la Gelbison botta da lontano di De Pasquale Diamenri spinge sul proseguo dell'azione c'è fuorigioco la Gelbison cresce e al decimo mette la freccia schema da corner e Croce con il mancino trova la rete difesa bitontina non esente da responsabilità e 1-0 sul campo di Agropoli per Croce è il settimo centro in campionato capocannoniere del Gironiacca il Bitonto non ci sta è il ventitresimo succede di tutto in aria campana Tedesco viene murato Muscatiello da due passi si fa ipnotizzare da Milan poi Fioretti si vede negare la gioia del gol sulla linea da un difensore passano pochi minuti e il Bitonto chiede un calcio di rigore su un presunto tocco col braccio di Tazza in aria dopo la conclusione di Tedesco l'arbitro lascia proseguire sull'angolo successivo Tangorre spreca di testa al 35esimo occasione nero-verde con Alba che può pareggiarla Milan risponde così e salva il punteggio dal corner che segue il colpo di testa di Gomez arriva ad un passo da 1-1 nel finale Tedesco ci riprova ma la mira è da rivedere e la Gelbison a portare a casa i tre punti per la Gelbison in programma domenica prossima c'è ancora un match casalingo contro Rotonda terza sconfitta consecutiva per il Bitonto che avrebbe sicuramente meritato qualcosa di più ma l'attacco continua a non pungere anche dopo il cambio in panchina nel prossimo turno a Bitetto arriva la Fidelisandria match che sarà trasmesso in diretta su Telesveva dunque andiamo a vedere i risultati dell'ultimo turno del Girone H di Serie D e poi vedremo anche la classifica oltre naturalmente a Gelbison Bitonto di cui abbiamo appena visto le immagini dodicesima giornata Nardoma-Fredonia 1-1 Casarano Santa Maria-Cilento 2-0 Gravina-Paganese 2-3 Palmese-Gallipoli 3-0 Rotonda-Matera 2-1 Team Altamura-Fasano 1-0 Fidelisandria-Barletta 4-3 risultato che interessa molto chiaramente il Bitonto che sarà avversario proprio della Fidelisandria nel prossimo turno e infine Martina-Angri 2-1 vediamo come si delinea la classifica in base a questi risultati e al comando c'è sempre la Team Altamura con 26 punti segue il Casarano con 23 21 punti per la coppia Gelbison-Nardò 20 per il terzetto Fasano Martina-Fidelisandria 19 punti per il Barletta 18 per il Matera 17 per la Paganese 16 per il Rotonda 12 per il Santa Maria Cilento 11 per l'Angri 10 punti per Palmese-Manfredonia 9 punti per Gravina e Gallipoli chiude con 8 punti Fanalino di coda il Bitonto Mario parto subito da te perché abbiamo visto i risultati i numeri anzi i risultati della classifica ma ci sono i numeri che sono impietosi con il Bitonto 8 punti dopo 12 giornate seconda sconfitta in due partite con la nuova gestione targata a Santo Ruvo Modesto terza sconfitta consecutiva quarta partita consecutiva senza vittorie e terza partita consecutiva senza gol segnati eppure abbiamo visto una squadra generosa che comunque sia ci ha provato pur non riuscendo a inquadrare lo specchio della porta avversaria anche nella partita contro la Gelbison la tua chiave di lettura alla base alla luce di tutti questi dati ecco beh sicuramente Vincenzo i numeri si presentano si presentano nella loro nudità crudele spietate come dicevi è dolorosa e disarmata al tempo però possiamo fare questa riflessione probabilmente in una sola partita abbiamo visto più palletol anche dall'inizio del campionato perché la squadra di giro ha prodotto tantissime occasioni e noi su questo forse dovremmo rispettere e da questo forse dovremmo iniziare a ripartire mi spiego indubbiamente è cambiato qualcosa a livello di gioco io penso che il materiale umano a disposizione degli allenatori sia sempre il medesimo solo che probabilmente il duo Santoruvo modesto ha deciso come dire di fare di necessità virtù perché se da un lato lo seto provava di volta in volta a cambiare l'assetto tattico senza ovviamente riuscire a sortire effetti positivi i due nuovi mister in panca credo che abbiano deciso di provare a fare gioco questa è la mia sensazione tra l'altro oggi non è un caso che noi sabbia in studio Federico Fioretti che forse è stato l'under più positivo dalla prima giornata ad oggi è sicuramente colui che più di tutti quando è sulla fascia riesce a spingere a guadagnare il fondo campo e a scodellare cross molto interessanti al centro dell'area quindi cominciamo a riflettere su questo la squadra certo con geometrie sicuramente semplici ma immediate ed efficaci ha ripreso a fare gioco a centro campo ovviamente abbiamo visto Chacon che probabilmente non è il sostituto naturale di Pizzutelli perché probabilmente messo un qualche metro più avanti potrebbe diventare davvero devastante però non avendo un play se non appunto l'altro Federico che era in panchina del primo minuto domenica scorsa contro la Giabison quindi ci sta che insomma sia il DF a fare da regista e quindi gli esterni che spingono e tra questi appunto Federico qui presente che generosamente appunto riuscivano ad andare in profondità e a offrire palloni molto interessanti sia a Tedesco sia a Figliolia che è tornato a battersi leoninamente come tra l'altro sa fare prezioso e providenziale come sempre clemente al centro del campo e non voglio dire che porti bene la nostra trasmissione però devo dire che possiamo registrare un esordio in Serie D per questa stagione molto positivo anche per Michele Aprile che al centro della difesa è riuscito a portare l'equilibrio che effettivamente serviva quindi io dico è vero abbiamo tutti quanti ragione perché i numeri sono come dire incontestabili nella loro crudezza però cominciamo a partire di qui cominciamo a considerare queste come delle fondamenta dalle quali puoi poter ripartire in maniera più fiduciosa e guardare il domani sperando che possa essere più rosio cioè dalla possibilità di far manovra anche se in maniera semplice però costante e dalla possibilità appunto di creare chance occasioni da gol come prima non se ne erano mai viste Federico parlo proprio all'esponente dello spogliatoio come ci si che cosa ci si dice dopo numeri come quelli che abbiamo sciorinato in precedenza però anche alla luce dei segnali incoraggianti che diciamo evidenziava Mario nel suo intervento perché comunque abbiamo visto una squadra che ci ha provato poi è chiaro il momento è quello che è però possiamo dire che comunque sia non è mancata la voglia magari è mancato qualcos'altro però la voglia non è mancata ecco dall'interno voi come la vivete? Sì in questi giorni anche dopo la sconfitta di Rotonda abbiamo parlato abbiamo parlato molto anche col mister col direttore tirando le somme sicuramente il cambiamento c'è stato e stiamo dando il massimo abbiamo aggiunto intensità ci manca in questo momento un po' di fortuna però le occasioni le stiamo creando la voglia c'è l'intensità c'è penso che con la Gelbison che è comunque una delle squadre che punta a vincere questo campionato e le abbiamo messi parecchie in difficoltà e quindi la prestazione sicuramente c'è stata in questo momento il risultato non ci sta dando ragione però siamo sicuri e convinti che i risultati arriveranno e noi stiamo dando il massimo perché questo si avveri ecco tra le squadre che con voi sono in questo momento in lotta per la salvezza perché è chiaro che bisogna anche guardare davanti guardare anche quelle che sono le concorrenti dirette quale ti ha colpito positivamente e quale negativamente sicuramente positivamente il Rotonda anche Manfredonia sono squadre comunque a cui la classifica non sta dando molto ragione in questo momento possiamo invece sono stato colpito negativamente dal Gallipoli perché ci aspettavamo sicuramente una squadra più in forma più diciamo meglio organizzata soprattutto perché ha degli elementi importanti per questa categoria dei giocatori molto importanti per il resto sono squadre alla nostra altezza perché alla fine siamo in Serie D non siamo più o meno tutti sullo stesso livello tranne Andrea Barletta la stessa Gelbison ce la possiamo giocare benissimo con tutti Mario vengo da te proprio per affrontare l'aspetto relativo alle altre formazioni perché naturalmente il detto bisogna andare avanti per la propria strada diventa un po' relativo quando una squadra è ultima in classifica perché a quel punto quando ti ritrovi a dover unicamente inseguire chi sta davanti come dire devi preoccuparti certamente del tuo risultato ma anche dei risultati di chi hai davanti secondo te ecco una situazione di questo tipo come si gestisce al meglio beh tieni conto Vincenzo che di solito si dice bisogna far la corsa su chi è più debole di te e però adesso come bene sottolineavi dietro il bitonto non c'è più nessuno siamo noi purtroppo con quell'espressione che veramente fa soffrire ripensando ai trenini di un tempo stanchi sulle balze della murgia sperduti dell'Apolo Lucana siamo il fanalino di coda purtroppo e sì hai ragione bisogna fare la corsa a questo punto vedendo chi è immediatamente superiore a noi e peraltro come bene ricordava Federico Pocanzi non è che le sconfitte del bitonto forse tranne in un caso siano state drammatiche e disastrose contro le avversarie tenuto conto che se tu pensi tra i punti deboli che venivano di solito elencati circa la nostra rosa c'era il fatto che molti under e tra questi anche il nostro ospite non avevano accumulato non avevano nelle gambe molte per esempio molte giornate molte esperienze nel campionato di Serie D e quindi non avevano molto minutaggio nella categoria però se cominciamo a riflettere e cominciamo a vedere un po' la crescita dei nostri ragazzi almeno di alcuni di quelli che giocano dei quattro che devono essere inseriti necessariamente in formazione e beh a questo punto dobbiamo riflettere sul fatto che il minutaggio lo stanno mettendo adesso nelle gambe si stanno facendo esperti di questa categoria domenica dopo domenica e credo che questa sia come dire tutto oro per loro è un'esperienza un tesoro che loro stanno mettendo da parte che gli servirà soprattutto non tanto nel futuro della carriera come loro auguro ma nel futuro immediato nel domani proprio del bitonto calcio e allora sì bisogna sicuramente fare corsa su se stessi cominciando a mettere punti in cascina quanto più possibile tenuto conto però che la prossima è con la Fidelis e beh Fidelis tra l'altro come abbiamo visto reduce da una vittoria altisonante con il barletta Fidelis che adesso impanca uno che era tra l'altro impredicato di sedersi su quella nero verde che è un vecchio amico non solo del bitonto ma anche personale qual è Pasquale De Candia che è un maestro di calcio indubbiamente e quindi le partite rischiano di diventare quasi tutte proibitive di qui alla fine del girone d'andata certo bisogna immediatamente mettere punti in cascina necessariamente anche soltanto un pareggio un pareggio per esempio deve servire per muovere la classifica per schiodarsi dall'ultimo posto altrimenti man mano che si va avanti nonostante la classifica sia ancora corta però più passano le giornate e più si allontanano alcune squadre che dovrebbero invece rimanere nel mirino se si vuole tirare fuori la testa dai bassi fondi è talmente vero quello che dici su Pasquale De Candia al di là dei risultati che ha centrato proprio qui in terra bitontina e voglio dire basta anche consultare gli almanacchi per averne contezza io ricordo quando De Candia è tornato allo stadio Città degli Ulivi tre stagioni fa io ero in telecronaca ricordo un'accoglienza affettuosissima per gli addetti ai lavori ricordiamo che in quel periodo purtroppo la capienza negli stadi era ridotta per i motivi legati alla pandemia hai citato giustamente la Fidelisandria Pasquale De Candia e soprattutto la vittoria importante che la formazione federiciana ha ottenuto in una partita mai banale come il derby della BAT contro il Barletta mi permetto anche di dire che sono due piazze che personalmente porto nel cuore visto che ho lavorato per un anno come telecronista al seguito del Barletta per ben cinque ultima proprio la scorsa stagione al seguito della Fidelisandria e allora iniziamo a proiettarci verso Bitonto Fidelisandria ricordiamo domenica 26 alle 14.30 salvo naturalmente variazioni legate al calendario andiamo a vedere subito le immagini del derby tra Fidelisandria e Barletta attacco batte difesa estrema sintesi di un derby della BAT bello anzi bellissimo ci sono sette reti da raccontare quattro le segna la Fidelisandria che mette alle spalle una settimana avviata con la sconfitta di Gallipoli e l'esonero di Farina tre sono del Barletta che non va mai avanti nel punteggio ma resta in gioco fino alla fine nel pomeriggio che decreta il ritorno alla sconfitta dopo sette risultati utili di fila meraviglioso lo spettacolo sugli spalti con oltre 7.000 spettatori al Degli Olivi e un gemellaggio ultra trentennale ribadito le formazioni nella Fidelisandria De Candia deve fare i conti con l'assenza di Jefferson ma ritrova Strambelli si dimostra pretattica l'annuncio del ritorno della difesa 4 alla vigilia fiducia al 3-4-2-1 con Donita Telera e Padalino davanti a Fratti non c'è Schelotto nel Barletta Ginestra rilancia sorprese il Bebi Venanzio nel tridente con Diaz e Ngom centrocampo over lo compongono Cafagna Marsili e Marco Nato pronti via il punteggio cambia minuto 6 Bottalico calcia giro dai 25 metri Provito lo respinge in maniera pigra e Giambuzzi è lesto a trovare la sua prima rete in bianco-azzurro 1-0 Fidelisandria reazione immediata del Barletta Venanzio al cross da destra Fratti in uscita bassa anticipa Diaz poi Cafagna calcia dal limite dopo un'indecisione Feola a Bottalico Fratti ci mette i guantoni anteprima del pareggio che arriva al 17esimo Ngom lavora un pallone a sinistra incertezza di Padalino in area Diaz ne approfitta deviando in porta 1-1 e secondo gol in bianco-rosso per il Tato il pareggio allarga le certezze bianco-rosse chance per il sorpasso Rizzo al cross da destra Marsili si inserisce tra Donide e Riefolo ma di testa non trova la porta nel momento più complicato la Fidelis trova il nuovo vantaggio combinazione sull'asse Strambelli Sasanelli Giambuzzi cross per Scaringella che con un delizioso destro al volo batte Provitolo 2-1 che l'attaccante festeggia senza esultare davanti ai 2700 presenti nel settore ospiti in omaggio al suo passato bianco-rosso reazione immediata del Barletta Diaz tocca su corner di Marsili Giambuzzi salva sulla linea dall'altra parte Bottalico Scaringella e Strambelli guidano un contropiede che si chiude con il sinistro alto del 10 doppia chance poi per il Tris Fidelis da sinistra Giambuzzi si inserisce colpisce di testa Provitolo c'è dal corner Strambelli Pesca Donida alto di pochissimo il suo stacco antipasto al 3-1 da Riefolo a Strambelli da Strambelli a Scaringella tocco delicato alle spalle di Provitolo protesta il Barletta per la posizione di partenza dell'attaccante al sesto centro in campionato nel secondo minuto di recupero a protestare la Fidelis filtrante di Strambelli per Scaringella che va a contatto con Provitolo Aldi non concede il rigore ma i dubbi al replay restano il secondo tempo parte senza novità e con il Barletta in pressione in gomma di testa su cross di Rizzo sul fondo dentro poi ci va Marilungo per Cafagni e 4-2-3-1 da applausi Provitolo che respinge così il sinistro dal limite di Bottalico all'ora di gioco ecco il 3-2 bianco-rosso Marsili dalla bagnerina Silvestri in anticipo secco su Feola stacca le spalle di Fratti e dimostra che c'è ancora partita a riportare la Fidelis avanti di due reti è però un errore dello stesso Silvestri che pasticce in difesa Scaringella alza la testa e vede Sassanelli cross pennellato colpo di testa imparabile per Provitolo e 4-2 sesta rete in campionato anche per l'attaccante classe 2004 sfiora anche la manita la Fidelis Sassanelli per Riefolo sponda per Scaringella destro sull'esterno della rete Ginesta prova a cambiare inserendo anche Marilungo e Caputo De Candia rilancia Cecere dopo un mese e mezzo di assenza distanze minime ristabilita al 76esimo Diaz lavora un pallone in aria e trova a Marilungo tutto solo posizione regolare destro preciso e 4-3 avvio del forcing finale bianco-rosso che si concretizza solo in questa imbucata di Caputo per Inguscio cross per Russo che stacca sul fondo i 5 minuti di recupero non schiodano il punteggio dal 4-3 alla fine sono applausi per tutti la Fidelis sale a quota 20 punti agganciando Martino e Fasano in quinta posizione e scavalcando il Barletta fermo a 19 nel prossimo turno Bitonto Fidelisandri e Barletta team Altamura beh ha vinto la Fidelisandri il derby ma mi permetto di dire che lo hanno vinto entrambe le tifoserie perché il colpo d'occhio dello stadio degli Ulivi ripeto impianto che nel cuore personalmente mi sta il colpo d'occhio era veramente veramente mozzafiato davvero le tifoserie di Fidelisandri e Barletta hanno dato davvero una grande davvero una grande prova e hanno regalato a tutti gli sportivi uno splendido colpo d'occhio Federico avete affrontato in stagione entrambe le squadre Fidelisandri e Barletta la Fidelisandria con la precedente gestione tecnica che impressione hai tratto da queste due formazioni che abbiamo visto si sono sfidate senza esclusione di colpi sicuramente sono due corazzate per questa per questa categoria e hanno dei calciatori importantissimi gli stessi Schelotto Strambelli Scaringella e personalmente penso che l'Andrea sia una squadra più organizzata e più più preparata ma anche il Barletta è una grandissima squadra da rispettare ora domenica ci aspetta la Fidelisandria e stiamo preparando già la settimana al meglio per affrontare questa sfida che dobbiamo cercare di fare più punti possibili domenica per ripartire per dare una scossa alla classifica che non ci sta dando ragione in questo periodo e non sarà facile ma sicuramente daremo filo da torcere per l'Andrea Potessi togliere un giocatore uno solo alla Fidelisandria chi e perché? Sicuramente Strambelli per il suo curriculum e per le giocate che ha da fantasista quale è per l'imprendibilità è un giocatore molto molto difficile da contenere quindi sicuramente toglierei lui e anche Sassanelli che è un mio caro amico sta facendo molto bene anche lui in questo momento è imprevedibile quindi toglierei questi due elementi all'Andrea Mario vengo da te per chiederti una riflessione sul risultato del derby dell'Abbato sia 4 a 3 insomma una Fidelisandria che ha segnato 4 gol è sempre stata avanti nel punteggio ma anche una Fidelisandria che in difesa si è concessa qualche pausa ecco secondo te per il Bitonto è più preoccupante il primo aspetto o apre il cuore alla speranza più il secondo? Il cuore si apre sempre alla speranza guarda anche durante l'impegno in Coppa Italia nonostante fosse l'altra la gestione tecnica del Bitonto però nel secondo tempo per quanto la Fidelis fosse passata subito in vantaggio per 2 a 0 poi nel secondo tempo era calato quasi una sorta di cappa di timore sui giocatori andriesi e quindi si era quasi abbassata la guardia motivo per cui il Bitonto non solo aveva accorciato le distanze ma si era reso persino pericoloso al punto tale da minacciare persino il pareggio e beh anche il derby sostanzialmente ha raccontato di questo fermo restando che adesso è cambiata anche la guida tecnica andriesi biancazzurra però voglio dire incontro pirotecnico con il Barletta Maidomo ovviamente perché sappiamo il carattere dei biancorossi qual è sono rimasti sempre lì nonostante anche quando l'Andria sembrava aver preso il largo però sono rimasti sempre attaccati al risultato e poi alla fine quasi ad arrivare ad un sospiro addirittura dal pareggio quindi sì effettivamente lo diceva poc'anzi lo stesso Fioretti e beh la rossa dell'Andria fa tremare le gambe soltanto a leggerne i nomi no il Barletta è una grande squadra indubbiamente sappiamo c'erano giocatori che hanno persino insomma come dire vissuto e respirato il gota del pallone nostrano italico quindi voglio dire è chiaro che l'Andria fa paura però probabilmente qualche defaianza a livello di settore difensivo potrebbero farlo registrare anche domenica chi lo sa certo noi dovremmo giocare di meno con i lanci lunghi centrali per i due attaccanti pur generosissimi quali Tedesco e sottolineo Emanuele Tedesco è dalla prima giornata che batte si batte e sbatte tra gli avversari in maniera molto incommiabile se non addirittura eroica e ripeto figlio lì a Simone che da capitano finalmente è tornato a combattere degnamente per quello che è poi tra l'altro il suo ruolo di guida e faro dei ragazzi quindi se magari cominceranno ad arrivare suggerimenti imbeccati e illuminanti da parte dei centrocampisti spero che ci sia un play di ruolo a centrocampo e se gli esterni per quanto giovani riusciranno a superare i loro avversari guadagnare il fondo e cominciano a mettere il cross al centro e beh si potrebbero aprire prospettive più o meno incoraggianti anche per la partita di domenica prossima Faccio a te la stessa domanda che ho fatto poc'anzi a Federico se avessi la possibilità di togliere un giocatore alla Fidelisandria per la partita di domenica chi e perché? Pasquale De Candia perché è davvero un maestro di calcio e mi permetto anche se so che mi vuole così tanto bene che non mi odierà ma probabilmente andrebbe diciamo sottratto la guida illuminata scafata acuta del nostro caro amico Molfettese Pasquale Mario cominciamo anche a proiettarci verso non solo la partita di domenica ma anche verso le prossime settimane che delineeranno ne parlavamo proprio nella scorsa puntata un bitonto diverso ora al netto della presenza in rosa di Federico qui presente che squadra ti aspetti dopo il mercato guarda Vincenzo sicuramente già ci sono stati i primi cambi sono arrivati alcuni rinforzi sono stati i rescissi contratti di alcuni ragazzi Colacimo Scelli sono andati via quindi ci sono già delle scelte tecniche c'è appunto Chacon che è stato finalmente recuperato e che dà una possibilità una puzione altra sia a centrocampo e non solo sulla tre quarti a ridosso delle punte quindi c'è stato già qualche cambiamento sicuramente ci vorranno altri rinforzi credo soprattutto a centrocampo e nel parco under credo poi per le punte adesso dalla prossima settimana credo che da questa addirittura si sta allenando con buona continuità anche Loris Palazzo che è un giocatore riacquistato alla causa neroverde quindi penso che adesso sono adesso le cose urgerebbe un centrocampista anche di lotta e di governo possibilmente e qualche under con un po' di esperienze in più fermo restando che quelli che noi già abbiamo in squadra cammin facendo già si stanno facendo le osse mi riaggancio Federico proprio a questa considerazione che faceva Mario ossia l'importanza di voi under in qualche modo questa stagione tra virgolette vi obbliga a crescere in fretta perché è una stagione nella quale non bisogna bisogna fare la corsa non solo su se stessi ma anche su chi sta davanti sì per noi under è molto importante perché siamo diciamo alle prime armi nel calcio vero nel calcio che conta e dobbiamo apprendere più rapidamente possibile le nozioni degli allenatori e degli addetti ai lavori e anche dei nostri compagni di squadra più grandi che ci aiutano magari in situazioni che non abbiamo mai vissuto quindi dobbiamo stare molto attenti a curare qualsiasi aspetto più degli altri perché non possiamo permetterci di staccare la spina un attimo quindi dobbiamo seguire con attenzione tutto ciò che ci dicono e farne tesoro bene siamo in addirittura d'arrivo e allora andrei a vedere quelle che saranno le partite della tredicesima giornata del girone H di Serie D fatta salva naturalmente la sfida tra Bitonto e Fidelis Andrea ricordo fischio d'inizio domenica 26 alle 14.30 salvo naturalmente variazioni del calendario le altre partite in programma sono Barletta Tim Altamura Fasano Nardò Gallipoli Casarano Derby Salentino Gelbison Rotonda Manfredonia Palmese Matera Gravina Paganese Martina Santa Maria Cilento Angri Mario telegrafico quali spunti potrebbe offrire questa giornata al netto di Bitonto Fidelis Andrea Ancora una volta tanti derby tra l'altro anche Fasano Nardò sono partite accese che potranno cambiare anche il volto della classifica soprattutto a livello come dire di quartieri alti io penso che sostanzialmente la team Altamura confermerà ancora una volta la d'essere capolista la vetta della classifica e il Martina dovrà rientrare e mi auguro che nonostante la vittoria della Gelbison l'abbia sospinta fuori dalla zona playoff mi auguro che non rientri in zona playoff la Fidelis Andrea Bene allora siamo giunti al termine di questo appuntamento con il ruggito nero verde ringrazio Federico Fioretti sperando naturalmente che ti sia trovato bene in nostra compagnia per questa chiacchierata ringrazio come sempre Mario Sicolo direttore del Dabitonto ormai un abitué della nostra trasmissione sono io che vi ringrazio un abbraccio a tutti quanti voi e ai nostri carissimi tifosi ringrazio ovviamente Danilo Mingirulli alla parte tecnica ringrazio la WeWork che ci ospita nei suoi locali per questa trasmissione e naturalmente non posso che ringraziare tutti voi alla visione e all'ascolto l'appuntamento con il ruggito nero verde per giovedì prossimo sempre qui su radio doppio zero e naturalmente partiremo dal risultato di Bitonto Fidelisandria ciao questo programma è stato offerto da De Caro Caffè Caseificio Gioia Jazz British Coviello Vernici WeWork www.weworkpoint.it Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.